Record di contagi giornalieri nelle Marche per la quarta ondata di coronavirus. 480 casi in un giorno fanno salire l'incidenza fino a 149,99, un netto balzo rispetto a ieri quando era di 137,33. Il numero più alto di contagi si registra in provincia di Pesarurbino 143, seguono le province di Ancona 123, Ascolipiciano 93, Macerata 66, Fermo 42, mentre sono 9 i casi da fuori regione. Per fascia d'età il piccolo e nuovi contagi colpisce di più le persone tra i 25 e 44 anni, ma tanti sono i casi anche tra i più giovani, come dimostrano i numeri crescenti nelle scuole. Intanto fa sapere il Servizio Sanità della Regione che si è registrato un aumento di ricoveri per Covid, 95 in totale più 3 rispetto al giorno precedente. In variati i dati della terapia intensiva 23 e nei reparti non intensivi 47, mentre salgono quelli in semi intensiva e sono 3 i dimessi in 24 ore. È deceduta anche una 90 anni di fermo, ospite della residenza a Valdaso, aveva patologie pregresse. Il totale regionale delle vittime sale così a 3.143 dall'inizio della pandemia. Tanti anche i tamponi eseguiti, 6.376 di cui 3.789 nel percorso diagnostico che ha evidenziato un 12,7% di positivi e 2.587 in quello dei guariti, a cui si aggiungono 1.987 test antigenici con ben 136 positivi che dovranno essere sottoposti al molecolare di conferma. Sempre più difficili quindi le operazioni di tracciamento per l'Asur. Basti pensare che attualmente il totale dei positivi nella regione tra ricoverati e isolati a domicilio è arrivato a 4.357 e le quarantene salgono a 9.162 più 582 rispetto a ieri. Grazie. Grazie. Grazie.